Ciao poveri mortali. In questo video vi leggerò la descrizione del mio meraviglioso gioco. Come al solito i giocatori vedono solo il risultato finale e mai il faticoso lavoro che si cela dietro alla realizzazione di un videogioco. Ma passiamo alla descrizione. In questo gioco le sfide sono tante. Utilizzando una palla di orata, il giocatore dovrà affrontare gli ostacoli che lo aspettano nel tentare di fare un tempo migliore possibile. Oltre a ciò però si dovranno raccogliere le monete necessarie per sbloccare i livelli successivi. Le monete possono anche essere usate dal giocatore per acquistare dal negozio beni di vario genere come ad esempio decorazioni o potenziamenti che possono migliorare la qualità delle partite. Il gioco dispone di un bel effetto ralenti ed una bella grafica. Il giocatore perde quando le vite in alto indicate da dei cuori finiscono. Per finire le vite bisogna entrare nelle zone rosse se si fa ciò allora la pallina incomincerà a bruciare fino a che le vite non saranno finite. Ogni livello è completamente diverso dagli altri e quindi non ci si può annoiare. In realtà, questo gioco è un aggiornamento del mio gioco precedente, Gold Ball, la palla di oro che purtroppo non posso più aggiornare per motivi tecnici, perciò ora lo devo pubblicare come fosse un gioco completamente nuovo e rinnovato. Grazie per la visione di questo cortissimo video. Babbani, ciao. Ciao po.